I liberali di permettere la legibilità politica, a FUAL che all'epoca non ci si poteva parlare, ancora adesso non è più difficile. Grazie e passo la parola al direttore dell'ominio. Maria Spuola, grazie. Io infatti mi scuso per il ritardo provocato dal traffico romano in cui mi sono infilato, sono stato coinvolto, bloccato, paralizzato e poi finalmente riuscito mi sarebbe dispiaciuto arrivare fuori Verbo Massimo perché ho letto il libro di Gian Piero ma il problema non è tanto leggere il libro di Gian Piero, in quanto ho sempre seguito l'attività giornalistica e di scrittore di Gian Piero, l'ho sempre apprazzato e adesso spiego la ragione perché Gian Piero si è definito un liberale, io non mi definisco un liberale e sono un liberale che ama il pensiero e la cultura divergente, non il controcorrente perché molto spesso io sono cresciuto e ho avuto un'esperienza importante per la mia bandiera professionale, per me stesso nel giornale di Montanelli dove il controcorrente ovviamente faceva parte del corredo indispezzabile del direttore. Però penso che nella nostra epoca coltivare il pensiero, la cultura divergente non è sempre sia una sorta di fiore al bottiello che ci si deve e si deve sforzare di mettere. Ora Gian Piero, questo fiore al bottiello lo ha portato in maniera che gli è stata riconosciuta, corretta, in maniera regola, più che dignitosa, sia da destra sia da sinistra, gli è riconosciuta sempre. Se devo dirti quello che forse ti contestano, ti contestano l'abbigliamento che è una cosa bizzarra. A Gian Piero 15 si contesta l'abbigliamento con gli occhiali, lo dici anche te del direttore o anche la produzione. Questa giacca è di uno dei programmi studisti giapponesi al mondo. Sì, sì, ma anche in questo è un segnale di cultura divergente, anche se poi una cultura divergente è quella di vestirsi in maniera già mostravagante, per bucare il muro dell'indifferenza che esiste nel nostro paese e che esiste soprattutto, anche e soprattutto nei confronti di noi. Non fa parte dell'omologale, di quella piattinta, del pensiero unico. E quindi avere il coraggio delle proprie idee, saperle e poterle esprimere senza avere nessuna preoccupazione, idee che molto spesso divergono con il flusso generale, è un merito che va riconosciuto a Gian Piero 15. Io l'ho apprezzato quando appunto viene la propria firma alla lotta continua, che io ovviamente, dal mio punto di vista, non potevo condividere. Ma ho apprezzato il suo comportamento perché credo che in una democrazia sul pluralismo delle idee, ogni idea abbia il diritto di poter essere espressa. e quindi anche le idee che deve contestare, di lo confinare con il diritto di essere espressi. Merito a Mughini di aver consentito quelle idee che venissero espressi. questa raccolta di pezzi che Mughini ha scritto dal 2005 al 2006 il foglio, sono la rappresentazione concreta, pratica, materiale, la dimostrazione inconfutabile della sua capacità di essere un portavoce di cultura divergente. perché ogni suo pezzo è un pezzo che non può essere considerato omologato a qualsiasi posizione, a qualsiasi linea. È un pezzo di una persona che ha una forte personalità e che la manifesta senza nessun tipo di problema. io mi sono preso alcuni appunti, alcune letterine, da quella in cui si dice che nessun giornalista italiano può fare a meno delle verità e non dirsi, che non dirsi un po' di lunganesi devono pensare a qualsiasi visita, perché tu quando hai scritto questa cosa sull'onganesi, diciamo la verità, sei stato uno dei pochi, a parte quindi che a lunganesi dovevano punto e che molto spesso siano dimenticati doveva tutto, a lunganesi. e l'ho fatto quando l'unonesi veniva considerato un icono della destra e anche della destra più estrema e non era tanto tranquillo di poter scrivere solo se fosse stato tanto tranquillo non lo resta ecco appunto e questo è il punto centrale che a me piace di Luchini il fatto che se fosse stato tranquillo l'uno lo avrebbe scritto perché ci vuole della tempra, ci vuole del coraggio, ci vuole della mancanza di paura per fare questo quando tu hai scritto il frontolibro su quel razzista di Pietro Marcello, Lorenzo e Casalandi ci vuole dire che io quel libro l'ho detto voracemente perché non conoscevo la persona non capivo come ci potessero essere in quell'epoca personaggi che teorizzavano il credo razzista, antisemita e fossero degli antisemiti di portata politica importante con un certo ruolo e il fatto che tu abbia scritto un libro su quel personaggio lì ha un altro di coraggio incredibile che un libro in cui quella persona non viene trattata soltanto sul piano diciamo ideologico ma sul piano medio umano che spiega tante cose, che spiega come la vita delle persone non sia fatta soltanto di un solo colore ma sia fatta di luci o ombre e queste luci e queste ombre molto spesso si bilanciano oppure non si bilanciano affatto ma non è che le luci debbano schiacciare le ombre o viceversa è stata una lezione di cultura divergente che io ho apprezzato e l'ho fatto anche mio nel mio piccolo cerco di esserti un seguaggio in questo, un amico, un amico ma non posso esserti semplice nella tua passione sportiva questo cosa apprezzate no no, tu lo sai che non chiedi, però i modelli poi diventano modelli quindi cercano di trovare degli adetti o comunque anche inconsapevolmente, no? adesso qui è una maggioranza laziale, si è una maggioranza laziale ma siamo in quanto laziali appunto divergenti perché per tutta la vita siamo stati divergenti rispetto ad altre maggioranze e quindi anche in questo lo possiamo essere un altro esempio un altro esempio nella tua letterina in cui ricordi il cugino di Pasolini che nel suo libro era morto, assolutamente che tu hai scritto su questo cugino che nel suo libro ha avuto il coraggio mentre la politica non c'entrava in niente è che mentre Pasolini veniva trasformato in un icono in una sorta di santificato il cugino di Pasolini che era un sessuale di lui raccontava nel suo libro il tratto umano di Pasolini la sua gelosia nei confronti di Toravoli che aveva avuto che si era sposato e si sposava la tragedia del matrimonio di Davo che era un tratto che non offendeva la memoria o sporcava la memoria che era un cugino si ma era scritto era un tratto che dava una dimensione umana scusami che rischiava di non avere come i monumenti il monumento non riesce a capire che tratto può avere umano può avere un uomo che poi è stato messo in effigie a cavallo oppure a piedi in qualche piazza e sottolineare questo aspetto secondo me è un tratto autenticamente divergente e infatti divergente e liberale quindi io ringrazio Gian Piero Modini di quello che ha fatto e che continua a fare lo ringrazio perché rappresenta un esempio che va seguito in un'epoca in cui è difficile seguire esempi di questo genere in cui è faticoso seguire esempi di questo genere in cui si rischia l'emarginazione non è possibile 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 quindi quando vedo Gian Piero che dice le proposte e non è possibile senza nessuno e le scrive e le riproduce cose scritte ormai che hanno sono state scritte dal 2005 al 2006 quindi hanno 15 anni ma che scrive oggi Aldo Katsugo nella tua lettera che ti ha citato citando una tua una tua una tua diciamo una freschezza è una qualità assolutamente importante che hanno preso come occhiali per conoscere meglio la realtà anche di noi nel mestiere del giornalista e dello scrittore si possono compiere anche degli errori credo che come di noi no sappia o abbia commesso degli errori ma quando questi errori che ho poverato poi non si sa quali possono essere quello di noi quindi conosce se stesso e si può riproverare qualche cosa ma quando questi errori vengono sopravviattati da questa tenta da questa capacità da quella che Montanelli avrebbe chiamato fragranza intellettuale beh allora magari ce ne fossero i Mugini magari ce ne fossero e continua così mi spero perché ci rendi il piacere di sentirti ci dà il piacere di sentirti e in certi casi è anche il piacere di invitarti perché grazie 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 grazie